Raffaella Ballarin, 58 anni, di Valli, titolare dell'Autoscuola Nazionale a Chioggia, ha partecipato l'1 e il 2 marzo a Salso Maggiore alla finale nazionale del concorso Miss Glamour, concorso nazionale di bellezza che si è tenuta presso l'Hotel Regina e si è classificata seconda nella sezione Lady Glamour. In questi due giorni intensi ed emozionanti si è presentata per ben tre volte alla giuria con tre uscite, la prima di presentazione, la seconda indossando un abito casual e una terza in abito da sera, ha sfilato inoltre con gli abiti di tre stilisti diversi, tutti bellissimi. Aragoste, Astici, Granseole, Granchiporri e tanto altro trovi alla CAM per il Gran Gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'isola Saloni a Chioggia.